Non occorre reinventare la ruota, bisogna prendere quello che è di meglio accesso al territorio utilizzando l'energia di tutti, in modo che la digitalizzazione diventi pervasiva e capillare in ogni punto del Paese e che soprattutto vada a ridurre il, non voglio chiamarlo soltanto digital divide, ma il divide di conoscenza rispetto a quella che è la strategia di crescita complessiva. Un'altra delle direttrici del piano triennale è quello di portare all'interno della pubblica amministrazione le giuste competenze e le giuste competenze riguardano soprattutto questo aspetto fondamentale, saper gestire progetti di innovazione, saper misurare i risultati raggiunti, saperli monitorare.